siamo nella sala stampa della camera dei deputati io sono franco corleone e alla mia destra c'è il professore andrea pugiotto e alla mia sinistra professora stefano anastasia che è garante dei diritti dei detenuti della regione lazio siamo i curatori di questo volume intitolato contro gli ergastoli un titolo che può apparire stravagante in realtà nella costruzione giuridica nella nelle prassi che si sono sedimentate nel corso degli anni noi non abbiamo più solo l'ergastolo ma abbiamo vari tipi di pena senza fine e in particolare vi è il l'ergastolo cosiddetto ostativo cioè un ergastolo che preclude tutte quelle forme che nel corso degli anni attraverso sentenze della corte costituzionale eh ha fatto dire più o meno legittimamente che l'ergastolo in Italia è sulla carta ma non nei fatti dieci anni fa avevamo pubblicato un libro contro l'ergastolo e oggi invece eh siamo in una situazione ancora più complicata perché abbiamo il questa forma originale che è stata condannata dalla CEDU e dalla corte costituzionale qualche giorno fa le agorà del partito democratico Rosi Bindi allieva di Bachelet ha dichiarato che la CEDU non capisce che cosa sia la mafia e un'organizzazione criminale e quindi ha contestato le decisioni della CEDU ma noi possiamo lasciare da parte la CEDU e affrontare il problema della Corte Costituzionale che ha dichiarato nel maggio scorso che l'ergastolo ostativo è incostituzionale di fronte a questa pronuncia io penso che occorrerebbe una capacità di eh valutazione di come si è potuti giungere a questo punto e invece la discussione che pare prevalere è come continuare a combattere la mafia le mafie e cercando di superare la pronuncia della corte costituzionale questo mi pare che nella lettura normale sia così addirittura c'è una leader di partito che ha dichiarato che di pronte a una legge dichiarata incostituzionale la soluzione semplice cambiare la costituzione cioè cambiare l'articolo 27 che è uno dei pilastri dello stato di diritto e della concezione eh della della pena e del rapporto fra lo stato e i rei non ha suscitato grande scandalo questa affermazione che invece è eversiva perché pensare di cambiare la costituzione di fronte al fatto che c'è una legge incostituzionale è veramente un atto che meriterebbe una censura molto molto forte bene noi abbiamo presentato questo volume come un contributo alla discussione per far tornare nei binari giusti la riflessione la speranza non può essere cancellata certamente quello che diciamo nettamente è che non tolleriamo la menzogna conclamata che se ci fosse una pronuncia della corte costituzionale in assenza di azioni del Parlamento noi avremmo i capi mafia liberi questa è una menzogna che è intollerabile in realtà quello che noi nel libro in da parte degli autori prestigiosi che hanno esaminato le questioni poi ci sarà il contributo del presidente emerito Valerio Nida ebbene il quello che noi diciamo è che non è tollerabile un automatismo per cui c'è l'impedimento assoluto questo vuol dire che con la riforma che noi immaginiamo si torna al criterio della responsabilità del magistrato di sorveglianza sulla base di tutte le informazioni che avrà raccolto il problema è che non è accettabile che il Parlamento costruisca un testo per cui il magistrato di sorveglianza non sia libero di decidere ma abbia dei vincoli così stringenti per far tornare fuori eh il l'ostatività che c'è oggi chiudiamo dicendo che la dottrina i giuristi sono intervenuti su questa questione e sul testo base che ha la Camera facendo osservazioni critiche noi chiudiamo il volume riproponendo le parole di pensatori politici come Aldo Moro, Salvatore Sedese, Papa Francesco e Aldo Masullo che pongono la questione della intollerabilità della pena dell'ergastolo crudele come se non più della pena di morte il del 98 il senato approvò con maggioranza netta il la proposta di abrogazione dell'ergastolo sono passati molti anni la cosa paradossale è che in questi anni sono hanno continuato sono continuate a diminuire i numeri degli omicidi che è il reato più grave addirittura 271 nel 2020 e contestualmente sono esplosi le condanne dell'ergastolo c'è qualcosa che non funziona in questo rapporto bulimico da una parte e e quindi il la discussione nella società deve riprendere con tenendo conto che l'ergastolo è il problema non è la soluzione e con questo io do la parola al professor Andrea Pugiotto che non solo è curatore del volume ma anche eh studioso eh con molte ricerche molti saggi di questo tema grazie Franco parto da una domanda cosa significa che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato come dice l'articolo 27 terza comma della costituzione alle corte vuol dire che puniamo qualcuno per averlo poi indietro possibilmente cambiato ecco perché da sempre l'ergastolo è costituzionalmente una pietra d'inciampo come può infatti mirare alla alla risocializzazione una detenzione a vita dunque fino alla morte del reo. Per l'ergastolo comune che ricordo il codice penale definisce appena perpetua articolo 22 la quadratura del cerchio è stata trovata nel 1962 estendendo per legge anche i condannati a vita la liberazione condizionale cioè la possibilità per l'ergastolano che abbia dato prova di sicuro ravvedimento di uscire di galera dopo 26 anni di detenzione riducibili fino a 21 grazie agli sconti di pena ovviamente se meritati. Dopodiché scarcerato viverà in libertà vigilata per cinque anni trascorso i quali se avrà rigato dritto la sua pena sarà estinta. Ecco perché quando nel 1974 l'articolo 22 codice penale venne impugnato davanti alla corte costituzionale questa dichiarò la questione infondata potendo non essere più perpetuo l'ergastolo avrebbe in sé una valenza risocializzatrice sentenza 264 del 74. Traduco secondo quella sbrigativa decisione l'ergastolo non viola la costituzione pur che non sia ergastolo e può continuare a esistere in quanto tende a non esistere. Ho sempre trovato questo sofisma di corto respiro. Capovolto dimostra che una pena perpetua è certamente incostituzionale dunque tutti i rei che hanno scontato un ergastolo fino a morirne sono stati sottoposti a una pena che la costituzione ripudia. È accaduto fino al 1962 continua ad accadere anche oggi. Alla data del 31 dicembre 2020 gli ergastolani in Italia erano 1784 la maggioranza dei quali in detenzione da oltre 26 anni. Tra il 2008 e il 2020 solo 33 hanno beneficiato della liberazione condizionale mentre 111 sono morti dietro le sbarre. Di più come riferirà a breve l'avvocato Emilia Rossi la gran parte dei ergastolani attuali sono ostativi cioè senza scampo e senza speranza perché se non collaborano utilmente con gli inquirenti ad essi è sbarrato l'accesso alla liberazione condizionale. E così questo fisma quella stampella argomentativa adoperata a puntellare l'ergastolo comune non regge per la sua variante più severa. Variante del ergastolo stativo fondata su una presunzione assoluta superabile solo attraverso la scelta di collaborare con la giustizia. Ma una presunzione assoluta cioè che dimostra è un non senso epistemologico e una scelta imposta per legge non è mai una scelta ha un altro nome. La novità la ricordava prima Franco Corleone è che l'ergastolo stativo è arrivato al capolinea. La prima la corte di Strasburgo sentenza viola contro Italia del 2019 e poi la corte costituzionale ordinanza 97 del 2021 ne hanno accertata l'incompatibilità con la cedu e con la costituzione. Per le ragioni che è molto più autorevolmente di me ricorderà a breve il presidente Valerio Nida. Il Parlamento perciò è chiamato a modificare entro il 10 maggio 2022 il vigente regime dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. All'attuale conclusione assoluta andrà sostituito il possibile accesso alla liberazione condizionale preve uno scrutinio giurisdizionale individualizzato che accerti il sicuro ravvedimento dell'ergastolano fino ad oggi ostativo. Dunque siamo a un vivio. Secondo noi sono mature le condizioni giuridiche per un definitivo superamento del carcere a vita. Viceversa sembrano mancare ancora le condizioni politiche per un simile cambio di paradigma in una fase che fatica a scalzare l'egimonia di un bulimico e trasversale devo dire pan penalismo elettoralmente molto lucrativo. Per restare in tema ricordo che in questa attuale legislatura è stato incrementato l'elenco dei reati ostativi pretendendole anche l'applicazione dei fatti progressi e la legge spazzacorrotti numero 3 del 2019 ed è stata esclusa l'applicabilità del rito abbreviato ai deritti puniti con l'ergastro legge 33 del 2019 che segnerà un'ennesima impennata delle persone condannate. In questo contesto il nostro volume si offre come un contributo costituzionalmente orientato al lavorio parlamentare e se posso dire il volume è un merito di guardare al fine pena mai da ogni latitudine. La tormentata storia del mancato superamento legislativo dell'ergastolo ripercorso nel saggio di Franco Corleone attraverso gli atti parlamentari e i dibattiti in aula, le sue progressive erosioni ad opera della giurisprudenza costituzionale e convenzionale ricostruite da chi vi parla e della collega Barbara Randazzo, i danni d'agonia di una pena perpetua che stravolge le condizioni esistenziali di tempo e di spazio come racconta nel suo saggio Stefano Anastasia. La rivelazione delle sue effettive dimensioni numeriche frutto di una inedita ricerca condotta da Susanna Marietti attraverso fonti ministeriali. La sua diffusione nel mondo ma anche la scelta di abolire l'ergastolo ha dimostrazione che è possibile farlo come racconta nel suo saggio Davide Galliani. Il diritto vivente giurisprudenziale in tema di concessione della liberazione condizionale di cui Riccardo De Vito svela le ambiguità concettuali e la scarsissima applicazione. Le possibili alternative all'ergastolo prefigurate più volte in sede ministeriale e nel volume di percorse con originalità da Giovanni Fiandaca. Il volume impreziosito dalla prefazione del Presidente Merito della Corte Costituzionale Valerio Unida dedicata all'ordinanza 97 del 2021 e come già ricordava Corleone contiene una illuminante appendice di testi di Papa Francesco Aldo Moro, Salvatore Senese, Aldo Masullo che abbiamo selezionato perché più di altri svelano nel carcere a vita una pena di morte nascosta come argomenta Grazia Zuffa introducendoli. La Commissione Giustizia della Camera ha recentemente approvato un testo unificato di modifica dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziale. Nutriamo fondate riserve di ordine costituzionale su molte sue disposizioni e speriamo in un miglioramento netto di quel testo attraverso le tre letture che ci saranno in Commissione e poi in Aula. Ma prima ancora delle singole scelte normative ciò che ci colpisce è la postura assunta dai più in Commissione, quella per cui l'ordinanza della Corte Costituzionale sarebbe un problema medio quando invece il problema costituzionale è semmai l'esistenza di una pena perpetua non riducibile perché come dice Papa Francesco che citiamo nel sottotitolo esplicativo del nostro volume, l'ergastolo non è la soluzione dei problemi ma un problema da risolvere. Io qui ovviamente nel tempo che ho a disposizione non posso fare un'analisi critica del testo ora all'esame dell'Aula, ci saranno occasioni e sedi per farlo. Peraltro uno degli autori del libro, il collega Davide Galliani è stato udito in Commissione e ha introdotto condivisibili rilievi alla proposta in discussione, ma segnalo inoltre che su questo testo di base la dottrina più accorta ha già pubblicato commenti motivatamente critici, Emilio Dolcini, Giovanni Di Leo, Ignazio Patrone e in tandem Maria Brucale e Michele Passione. Di mio, a conclusione dei pochi minuti che avevo a disposizione, aggiungo solo una chiosa, questa, cito dal punto 7 del manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo redato nel 2019 dall'Unione delle Camere Penali Italiane. Il diritto penale liberale non ammette pene perpetue, trattamenti inumani o degradanti, presunzione di pericolità ostative della funzione risocializzante della pena. Nell'esecuzione della pena detentiva, il trattamento penitenziario non può prescindere dal libero consenso della persona condannata. Sottoscrivo, il regime del gastro ostativo sfida tutto ciò in un gioco a somma zero. È bene che i deputati e i senatori ne abbiano piena consapevolezza. Delle due l'una. O quei principi liberali sono incapsulati nella Costituzione, ma allora l'ergastro ostativo è illegittimo, o l'ergastro ostativo ha diritto di cittadinanza nell'ordinamento, ma allora, dispiace dirlo, il nostro non è più un diritto penale liberale. Grazie Andrea, il professor Pugiotto ha usato rigorosamente il tempo a disposizione illuminando la partita che è squadernata adesso nella Commissione Giustizia della Camera e vedremo come proseguirà. Io do la parola a Emilia Rossi, che è componente del Collegio del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale. Emilia Rossi è avvocata e le do la parola subito. Grazie a voi per aver coinvolto il Garante Nazionale e aver la partecipazione nazionale, la presentazione di questo tantissimo voluto, pregiato per la reazione dei contributi sia dal punto di vista scientifico giuridico, sia dal punto di vista politico, perché avete fatto un lavoro di ricerca e di elaborazione che ci mette di fronte al quadro della situazione esattamente come si è delineato nel nostro paese. C'è qualche problema di audio? Adesso si sente bene, se per caso si riproponesse il problema di frasi smuzzicate ti chiederemmo a nostro danno di eliminare il video. Va bene, ti ringrazio. Dicevo e spero che si sia sentito che ringrazio per la partecipazione a questa presentazione e che il vostro volume è davvero molto pregiato per la ricchezza dei contributi e per la solidità degli elementi scientifici e giuridici e per la ricostruzione precisa direi schiacciante del quadro della situazione dal punto di vista politico oltre che storico. Mi scuso anzi che dopo il mio intervento come sarà il professor Pugiotto dovrò lasciare la conferenza ma ho un'emergenza che mi chiama e quindi ascolterò gli interventi successivi poi con molto piacere nella nella registrazione ma mi scuso eh con il professor Onida e con Stefano Anastasia se non potrò eh assistere in diretta ai loro interventi. Ora nel merito l'incostituzionalità dell'ergastolo stativo è sempre stato è sempre stata sostenuta dal garante nazionale eh che eh come sapete ha partecipato al giudizio davanti alla corte costituzionale sulla legittimità eh della preclusione automatica per i permessi premio quella che si è eh conclusa con la sentenza duecentocinquantatré del duemiladiciannove e che ha presentato anche il proprio parere come amicus curie eh nel giudizio sulla legittimità costituzionale dell'ergastolo stativo di quello di cui eh stiamo trattando oggi eh e che è stata come sappiamo eh stato eh diciamo definito anche se così non è con l'ordinanza eh novantasette del duemilaventuno ma vorrei anche dirvi che è significativo che nella relazione annuale al Parlamento di quest'anno noi abbiamo dedicato il primo paragrafo del capitolo che si intitola Orizzonti e che è destinato a consegnare al Parlamento gli indirizzi del garante nazionale le richieste le raccomandazioni e gli indirizzi abbiamo dedicato il primo capitolo esattamente alla questione dell'ergastolo stativo significativamente intitolandolo Neil Obstat. Ora è chiaro che il tema investe eh sul piano eh della cultura giuridica politica e politica sistema delle pene in generale non si riferisce soltanto eh all'ergastolo all'ergastolo stativo perché eh mette in discussione la coniugazione del sistema delle pene previste nel nostro ordinamento con il principio fissato dall'articolo ventisette eh della Costituzione e eh e poi naturalmente eh eh è un tema che focalizza sulla questione dell'ergastolo stativo l'insieme eh di queste eh problematiche ehm estendendosi all'ergastolo in generale e eh ho apprezzato molto che questo volume eh si intitolasse agli ergastoli eh anche se io credo sinceramente che di ergastolo ne esista eh soltanto uno in realtà in Italia è dell'ergastolo stativo perché eh perché i dati del fatto che a mio avviso sono gli occhiali teoretici migliori indicano che in Italia l'ergastolo e l'ergastolo stativo e quindi di fatto di fatto è messa in crisi quella clausola di salvaguardia della compatibilità della pena dell'ergastolo con eh il principio della finalità risocializzante della pena fissato nell'articolo ventisette della Costituzione che poi ha eh come sua eh connessione soggettiva eh vorrei dirvi che il garante nazionale quest'anno ha rappresentato al Parlamento l'individuazione nella finalità rieducativa della pena un diritto soggettivo del condannato che quindi lo Stato deve assicurare e deve tutelare. Ora quel diritto soggettivo si traduce nel diritto alla speranza cui le due corti quella sovranazionale eh europea dei diritti dell'uomo e quella nazionale la Corte Costituzionale hanno fatto chiaro ed espresso riferimento nelle loro pronunce sull'ergastolo stativo. Allora dicevo è chiaro che quella clausola di salvaguardia che la Corte Costituzionale ha fissato nel lontano millenovecentosettantaquattro è entrata in crisi perché in realtà l'ergastolo oggi è ostativo. Perché lo dico? Perché i dati ad oggi più che al dicembre del duemilaventi attestano che oggi ci sono mille ottocentosette ergastolani su trentasette mila seicentonovantasei condannati definitivi. Teniamo conto che nel giro di un anno gli ergastoli sono aumentati da mille settecentottantaquattro quali erano a fine di dicembre del duemilaventi a mille ottocentosette quali sono oggi. Di questi mille ottocentosette il settanta per cento è rappresentato da ergastoli ostativi. Eh nella alla fine del duemilaventi erano mille duecentosessantasette su mille settecentottantaquattro il rapporto ad oggi non è cambiato. Eh tra l'altro di questi ehm ergastoli ostativi eh duecentosessantadue interessano persone soggette al regime speciale previsto dall'articolo quarantuno bis dell'ordinamento penitenziario che sono il venti per cento eh di tutti i detenuti ammessi al regime del quarantuno bis. Eh questi sono i dati che eh identificano nell'ergastolo ostativo non un fatto fenomenico ma un elemento di sistema. Oggi il sistema dell'ergastolo è questo e quindi quando noi ci confrontiamo con la pena dell'ergastolo di questo dobbiamo parlare se vogliamo essere seri e non di altro come siete tutti voi eh che avete lavorato eh a questa ricerca a questo volume e e chi partecipa a questa conferenza. ma eh non solo tanto per eh come dire tranquillizzare eh le inquietudini eh anche di Rosi Bindi se vogliamo di quanti eh in Parlamento e nel dibattito pubblico pensano appunto che se la Corte Costituzionale eh interviene sull'ergastolo ostativo si aprano tutte le le eh celle di tutti i mafiosi. Questo è il linguaggio quindi perdonatemi non mi piace ma lo riproduco perché è questo. Bene eh negli ultimi mh tre anni eh le liberazioni concesse ad ergastolani ovviamente non ostativi sono state cinque e negli ultimi dodici anni sono state trentatré. Quindi la valutazione eh il giudizio della magistratura di sorveglianza a cui molto modestamente la riforma dell'ergastolo ostativo vuole rimettere eh il giudizio sull'accesso alla liberazione condizionale noi sappiamo e eh voglio dichiarare apertamente che è un giudizio molto cauto molto attento molto prudente. Eh cento undici eh lo diceva eh prima eh Andrea Pugiotto sono stati invece i decessi in carcere di ergastolani quindi in carcere si muore per ergastolo è davvero pena eh fine pena mai. Allora io credo e vado alla conclusione ehm che oggi si pongono due questioni eh all'impegno della comunità giuridica della riflessione pubblica e politica e insisto sulla riflessione pubblica e cioè deve essere una riflessione dibattito che coinvolga la collettività come era coinvolta vent'anni fa e che si pongono all'intervento del legislatore. Il primo è la riforma della disciplina dell'ergastolo stativo nei termini indicati dalla Corte Costituzionale secondo i principi che sono chiaramente indicati dalla Corte Costituzionale per quanto abbia rimesso al legislatore la sistemazione organica della della disciplina. Eh sul testo attuale eh sarà audito nei prossimi giorni il presidente del garante nazionale Mauro Palma e quindi non voglio svolgere qui delle osservazioni eh come dire eh specifiche puntuali soltanto una osservo che nel testo finora elaborato c'è davvero poco delle indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale al Parlamento ed erano due fondamentalmente le ragioni dell'inesigibilità della collaborazione quindi individuare gli strumenti giuridici che consentano l'emergere delle ragioni dell'inesigibilità della collaborazione e poi forme di vigilanza sul comportamento successivo all'uscito in carcere attraverso prescrizioni nella eh libertà vigilata. Ora nel testo eh che abbiamo a disposizione non si trova nulla di tutto questo. Si trova un testo completamente centrato al di là delle questioni di tenuta eh costituzionale di tutta una serie di elementi su cui appunto potremmo discutere dovremmo discutere a lungo ma eh è centrato su elementi dimostrativi di cesura con il passato che sono seriamente discutibili come se come se scusate la la maliziosità ma come se il Parlamento stesse scrivendo un testo che eh implicitamente ritiene non eh satisfattivo eh dei criteri indicati dalla Corte Costituzionale volesse in qualche modo liberarsi del compito e rimetterlo invece all'intervento eh che la Corte Costituzionale ha comunque previsto nel caso in cui il Parlamento non arrivasse non ad una ad una legge qualsiasi ma ad una legge conforme ai principi che la Corte ha espresso con buona pace di chi non rispetta i principi delle Corti sovranazionali e quindi anche della Corte Nazionale magari ambisce anche ad altri ruoli di rappresentanza istituzionale di questo Paese. La seconda cosa è che questa discussione dovrebbe essere il momento, l'occasione per far riprendere nel Paese quella riflessione interrotta più di vent'anni fa eh però sono stati vent'anni di giustizia securitaria che hanno stravolto il nostro sistema della giustizia non soltanto il sistema delle pene ma il sistema della giustizia che è andato avanti a costruire doppi binari, tripli binari, eh leggi speciali, pene speciali, eh giudizi speciali che per alcuni valgono e per altri no, eh retroattività di disposizioni sfavorevoli e condannati, ha fatto di tutto questa giustizia securitaria coltivata per rarricchire il consenso popolare. Anche questo ce lo dobbiamo dire con assoluta schiettezza. Smantellare questo impianto sarà molto difficile ma è un lavoro che bisogna fare e che deve cominciare da questa discussione e che bisogna fare con urgenza perché il momento è questo per rimettere in asse il nostro paese con i principi di civiltà giuridica che in vent'anni ha perso. Vi ringrazio molto per l'attenzione e mi scuso. Grazie per questo contributo molto eh approfondito di Emilia Rossi. Adesso eh do la parola al presidente emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida. Mi piace ricordare che abbiamo una conoscenza che risale a molti molti decenni fa e voglio ricordare con particolare eh interesse per tutti il fatto che eh il professore di San Vittore e poi con altri istituti di eh secondo il principio che bisogna aver visto molto prima del anche del della scelta della Corte Costituzionale di visitare le carceri italiane. Quindi la parola con grande piacere al professor Valerio Onida. Grazie. C'è un punto fermo da tempo acquisito il nostro ordinamento che è quello che è appena detentiva senza fine dove non vi sia prevista non siano previsti istituti che determinano appunto la fine è incostituzionale. Sarebbe incostituzionale. Sarebbe incostituzionale. Sarebbe contraria ai principi di invieto di trattamenti inumani e degradanti e di e di necessaria tendenza della pena alla rieducazione, cioè la risocializzazione del condannato. Questo è da tempo acquisito anche nel nostro ordinamento. A livello poi internazionale eh per la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo già da tempo prima della sentenza viola e ne dà testimonianza eh il contributo che nel volume eh ha portato alla professoressa Barbara Randazzo su questa giurisprudenza eh si è affermato che deve esistere per rendere compatibile la pena dell'ergastolo con la il divieto di pene inumani e degradanti recato dalla Convenzione deve esistere una possibilità effettiva di porre fine alla detenzione dopo trascorso un determinato periodo di tempo e compiuto un certo percorso e che il detenuto deve riconoscere fin dall'inizio questa possibilità e le relative condizioni. In Italia questa possibilità in via generale è stata introdotta quando si è estesa la liberazione condizionale, l'istituto della liberazione condizionale che comporta appunto una fine della detenzione dello stato detentivo anche alle condenati. Quindi allora liberazione condizionale è l'istituto che consente di fare dell'ergastolo un non-ergastolo come dice appunto il professor. Intanto l'ergastolo risulta non in contrasto con i principi costituzionali in quanto vi sia in concreto la possibilità della diversa condizionale. E' su questo che si innesta il tema del cosiddetto ergastolo postativo, quando cioè si è introdotto in legge la prescrizione secondo cui per determinati condannati all'ergastolo, solo la collaborazione con la giustizia consente di avviare un processo di liberazione. C'è una presunzione assoluta che fa sì che la mancanza di collaborazione equivalga a mancanza definitiva e totale di istituti di liberazione. Naturalmente questo non significa che la collaborazione debba risultare irrilevante. Il carattere premiale della collaborazione può essere mantenuto con tutte le cautele del caso. Ma il punto è che oggi per la nostra legislazione se non c'è collaborazione con la giustizia, salvi i casi della collaborazione impossibile o collaborazione inesigibile, non ci sarebbe mai la possibilità della liberazione condizionale. Questo è il punto di scontro dell'attuale disciplina italiana con le norme costituzionali. A livello dell'issutenza europea, come è noto, è la recente sentenza viola del 2019 che si è occupata proprio di un caso, di un ricorso sollevato da un detenuto italiano, da un ergastolano italiano o stativo, per dire che non è conforme alle regole convenzionali l'idea che in questo caso, mancando la collaborazione, non vi possa essere alcun accesso alla liberazione condizionale. Da noi la Corte Costituzionale ha iniziato un percorso analogo perché già con la sentenza 253 del 2019 ha stabilito che per la condizione della collaborazione che fino ad allora valeva come condizione per la concessione di qualunque beneficio, ivi compresi i permessi premi, quindi di intermedi, non è costituzionale. Lo ha affermato chiaramente e nella ordinanza 97 del 2021, quella che ha poi rimesso nel prossimo anno la decisione definitiva della Corte Costituzionale, la Corte ha ribadito questo concetto. Non ci può essere una presunzione assoluta di non concedibilità della liberazione condizionale in condizioni per via della mancata collaborazione. Cioè la mancata collaborazione non può più costituzionalmente essere elemento dirimente, non può più essere condizione assoluta, non può valere costituzionalmente una presunzione assoluta di recupero del detenuto quando questi non abbia collaborato. Questo è il punto già deciso in sostanza dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza 97 del 2020. La collaborazione non può più essere considerata un elemento indispensabile per pervenire all'applicazione della liberazione condizionale. Di qui l'ordinanza che rimette poi al legislatore il tentativo di riordinare l'interno della materia, ma il principio è quello, non può essere abbandonato quel principio, non ci può essere una presunzione assoluta di pericolosità sociale del detenuto che non ha collaborato, che non collabora con la giustizia. Non ci può essere, è incostituzionale. Ora, su questa base si è avviata la discussione, oggi aperta in Parlamento, proprio per la formulazione delle nuove norme. Qui io vedo essenzialmente un problema, cioè deve essere acquisito, deve essere ovvio che questa nuova legislazione non può non rispettare principi che la Corte Costituzionale ha stabilito, quindi non ci può essere presunzione assoluta di non rieducativi, di non raggiungimento del percorso rieducativo, quindi impossibilità della liberazione condizionale, non ci può essere una presunzione assoluta. Qui però, quindi, poi questo è il minimo che i legislatori non potranno riconoscere, che anche in mancanza della collaborazione, anche in mancanza della collaborazione, seppure fuori dai casi già ammessi di collaborazione cosiddetta impossibile o inesigibile, ma anche in casi di mancata collaborazione in più in generale, poiché la mancata collaborazione può avere molte motivazioni, anche diverse da quelle del mantenimento di legami con la criminalità organizzata, la mancata collaborazione non può più essere un elemento di presunzione assoluta di non. Però, ecco qua, vedo che nelle proposte che sono in discussione, si tende a sostituire la presunzione assoluta, fino ad oggi vigente, con una sorta di onere di prova della mancata, dell'avvenuto distacco della criminalità organizzata e non solo, ma dell'inesistenza di un rischio di ripresa dei rapporti con la criminalità organizzata nel caso di liberazione. Un onere di prova che, se applicato coerentemente, darebbe luogo ad una sorta di probazio diabolica, cioè sarebbe il condannato all'argastola che dovrebbe dimostrare lui con elementi che lui è in grado di portare, elementi certi oggettivi, dimostrare che non c'è più, non esiste più quel rapporto di appartenenza o di collaborazione con la criminalità organizzata che lo ha condotto a commettere in reati e che non c'è più nemmeno il rischio di ripresa di questi rapporti. Sarebbe un caso di probazio diabolica perché è evidente che il gestorano è un detenuto, sta in carcere, è sotto il controllo delle autorità, partecipa, o partecipare, partecipa alle attività anche rieducative previste per il condannato e non può essere onerato, caricato di un onere esclusivo di prova. Cioè, se tu non mi provi con certezza che non sei più appartenente a quella organizzata e non c'è il rischio che tu uscendo possa riprendere questi rapporti, non puoi avere la liberazione condizionale. Sarebbe il caso classico di probazio diabolica. In realtà la via che la Corte Concezionale ha aperto è che il legislatore deve specificare quali sono le condizioni perché il gastrullano oggi o stativo possa accedere alla liberazione condizionale, ma non sulla base di un onere assoluto di prova in capo al detenuto. Come faccio io a provare, a dimostrare con prove indiscutibili che non sono più appartenente a quell'organizzazione mafiosa e che non c'è il rischio che se io esco ritorni a farne fare. E' vero che, come ha già detto un'altra pronuncia della Corte Costituzionale, debbono essere acquisiti elementi, così si dice, anche l'ufficio elementi, atti a condurre alla conclusione che quel rapporto con la criminalità organizzata non c'è più, si è definito e non c'è un rischio concreto, effettivo, di ripresa di questi rapporti. Questo sicuramente può essere introdotto nella legge, cioè, anzi, giusto che venga introdotto nella legge questo principio. Se vengono acquisiti elementi, ma non soltanto perché è l'ergastrullano stesso che riesce a provare nel senso oggettivo la cosa, ma perché tutto il percorso a cui lui è sottoposto, il percorso del educativo, e tutte le indagini che gli organi competenti, in particolare alla fine il Tribunale di Sorveglianza può e deve condurre, arrivano alla ragionevole conclusione che quel rapporto di appartenenza alla criminalità organizzata è avvenuto meno e che non c'è un rischio concreto, effettivo, di ripresa di questi rapporti nel caso di liberazione. Questo, direi che il punto chiave della discussione oggi in corso, mi sembra proprio questo. Non si può parlare di un onere della prova assoluto in capo al detenuto, in capo all'ergastrullano. Ci deve parlare della necessità di acquisire elementi, ma acquisire anche l'ufficio, acquisire proprio per le indagini e per la considerazione che il Tribunale di Sorveglianza, alla fine, seppur avvalendosi poi anche di tutte le informazioni disponibili da parte di altre autorità, può arrivare a questa ragionevole conclusione. Il rapporto di appartenenza alla criminalità organizzata non c'è più e non c'è un ragionevole rischio di ripresa di questi rapporti nel caso di concessione della liberazione condizionale. Quindi resta il carattere premiale della collaborazione fuori discussione, ma anche in assenza della collaborazione, questo è il punto chiave, si deve effettuare un percorso di esame della situazione concreta della storia del detenuto, del suo comportamento in carcere e non solo, di tutto il percorso che deve essere stato attuato, perché non dimentichiamolo che il detenuto ha diritto, deve essere oggetto di percorsi tendenti a realizzare la rieducazione. se questo avviene e se le autorità competenti arrivano alla conclusione che non c'è più un ragionevole sospetto di permanente appartenenza o un ragionevole rischio di ripresa dei rapporti, il detenuto può usufruire della liberazione condizionale. Quindi non più presunzione assoluta e non obbligo di prova esclusivamente in capo al detenuto, cosa che è impossibile, la provazione diabolica, ma dovere delle autorità e di tutte le autorità competenti di compiere tutte le valutazioni possibili sugli elementi cui dispongono sulla base della condotta e di ogni altro elemento. Quindi no all'approvazione diabolica. Questo direi che è il punto chiave che deve essere introdotto, perché l'idea che un mafioso, anche se viene condannato e incarcerato, resta per sempre un mafioso, cioè non è possibile che si dissoci dal contesto mafioso, è un'idea profondamente sbagliata e incostituzionale, perché vorrebbe dire che ci sono casi, appunto, quelli dei delizi di mafia, che non sono soggetti al principio per cui la pena deve tendere alla dieducazione del condannato, cioè deve tendere alla risocializzazione. Quindi deve poter finire quando un percorso di dieducazione sia stato ragionevolmente compiuto. Grazie Presidente Onida per avere posto con nettezza alcuni punti irrinunciabili. Se non ricordo male, la sentenza della Corte Costituzionale mette in guardia il Parlamento sul fatto che non ci può essere una legge qualsiasi, ma sarà da parte della Corte esaminata perché sia rispettosa dei punti che sono stati. Io temo che si possa andare a uno scontro istituzionale, quindi la responsabilità del Parlamento è molto forte. Saluto l'onorevole Annibali che è qui con noi e adesso la parola a l'onorevole Bruno Bossio, che non so se vuole parlare, se viene qua forse... Solo una chiosa mi viene da dire, quando si chiede in maniera ossessiva la collaborazione poi abbiamo dei casi in cui i collaborati sono rimasti criminali e mafiosi da contorno a brusca quindi è molto strumentale questa richiesta. Bene, la parola. Bene, grazie. Vi ringrazio per questo libro che è veramente illuminante e tra l'altro interviene, anche se molti iscritti sono precedenti, anche la discussione in Parlamento interviene in un momento importante e sono anche precedenti, credo, l'ultima sentenza della Corte Costituzionale. D'altra parte anch'io avevo depositato una proposta di legge precedente alla sentenza tant'è che la sentenza la cita, l'unica legge che cita, a parte la relazione dell'antimafia, della 1951, che sarebbe la legge a mia prima firma, la quale probabilmente anche alla luce della sentenza ha, diciamo, un elaborato molto scarno, ma che comunque, diciamo, è in linea con la filosofia della sentenza della Corte e anche con tutte le sentenze, diciamo, delle Corte Europee. perché il problema vero è quello che voi avete posto in questo in questo libro, cioè bisognerebbe andare effettivamente, se vogliamo restare nell'ambito appunto del pensiero liberale democratico, a un superamento del fine pena mai. E diciamo che l'ergastolo non ostativo tutto sommato permette, diciamo, questa possibilità. Invece l'ergastolo ostativo non lo permette in maniera assoluta. Io avevo già presentato nella scorsa legislatura una proposta di legge perché avevo seguito i casi di alcuni ergastolani ostativi che appunto si trovavano in questa situazione. Devo dire che la frase finale della prefazione di Valerio Onida dice in ogni caso l'ergastolo ostativo per i non collaboranti, nel senso in cui oggi, fin oggi l'abbiamo considerato, non ha più cittadinanza nel nostro ordinamento. Bene, credo che questa sia ottimista, se è vero come è vero. Io credo la raccomandazione che ha fatto, che c'è nella sentenza della Corte Costituzionale, cioè di non fare una legge qualsiasi, ma di andare effettivamente a un superamento dell'ergastolo ostativo, è purtroppo poco, per adesso poco realistica, ma noi faremo le nostre battaglie con gli emendamenti, rispetto allo spirito che oggi c'è all'interno del Parlamento. Perché io e la collega Lucia Annibali siamo fra quelle che consideriamo il testo base non assolutamente consono a quelle che sono le indicazioni della Corte Costituzionale. E devo dire, l'ho detto e l'ho fatto mettere anche a verbale nella riunione della Commissione Giustizia, di cui io non faccio parte formalmente, che se un testo base deve unificare le diverse proposte di legge, evidentemente non ha unificato. nella mia e dico manco quella di Fratelli d'Italia, tant'è che è l'unico che ha votato contro, mentre il resto dei partiti ha votato a favore. Perché il resto dei partiti ha votato a favore? Io sono tra l'altro anche il mio partito. Perché sta passando una narrazione che sostanzialmente vede nella fine dell'ergastolo ostativo, nel superamento dell'ergastolo ostativo, la possibilità dei liberi tutti per i mafiosi. Allora, premesso che solo il 20%, come ha detto prima la dottoressa Rossi, sono sostanzialmente 41 bis, premesso che i collaboranti nella maggior parte dei casi restano mafiosi, il punto vero è che praticamente questa narrazione è completamente smentita, ma viene sposata perché noi abbiamo udito diversi procuratori antimafia, soprattutto la procura di Palermo, scusate se sono brutale ma gliel'ho detto in faccia anche ai procuratori caselli in testa, viene portata avanti questa narrazione perché si pensa che in questo modo venga messa in discussione la lotta antimafia di questi anni. Una lotta antimafia che non ha prodotto grandissimi risultati francamente e che ha visto diciamo nella esasperazione del valore della collaborazione diciamo l'unica faro. Io dico che invece proprio il fatto che, lo dice molto bene Valerio Nida, proprio il fatto che la collaborazione non sia in maniera assoluta una certezza di rescissione dei rapporti con la mafia, allo stesso modo la non collaborazione non può essere un valore assoluto ed è questo il punto vero che bisogna centrare ed è questo il punto vero su cui proveremo a fare degli emendamenti, anche se questo testo base è sostanzialmente inemendabile, ma proveremo a fare degli emendamenti sostitutivi e la seconda questione è il punto del lavoro fondamentale che deve fare la magistratura di sorveglianza che non riesce a fare né con la legge vigente né con questo testo base. Devo dire che questa posizione, finisco, ha trovato invece delle, cioè lo spirito della sentenza della Corte Costituzionale, ha trovato però delle risposte positive in alcune audite, in particolare nel presidente della NM, Santa Lucia, il quale quando prima dell'uscita del testo base, quando io gli ho chiesto cosa ne pensasse del mio testo, lui ha detto la conferma migliore sulla bontà del suo testo l'ha avuto dalla sentenza della Corte Costituzionale. Quindi evidentemente questi, i partiti, ed è quello su cui proveremo a fare battaglia, non so se ci riusciamo, devo dire, non tengono in considerazione in questo momento nemmeno la posizione della ANM o a meno della maggioranza dell'ANM perché sono accecati da questa presunta lotta antimafia che ancora una volta non è una vera lotta antimafia ma semplicemente una stelletta da mettersi sulla giacca fregandosene se poi sostanzialmente la mafia viene sconfitta veramente. Grazie. Grazie Bruno Bossio per anche la decisione che la contraddistingue. Adesso Riccardo Maggi. Rapidamente per un saluto perché non abbiamo molto tempo e prima di tutto per un ringraziamento a voi che avete portato con tanta forza e tanta autorevolezza all'interno della Camera dei Deputati una presentazione di un volume che mai come in questo caso è dentro l'attualità politico istituzionale. Il punto è che se usciamo da questa sala, facciamo pochi passi in direzione del... Enza, la collega Bruno Bossio sorride, facciamo pochi passi e arriviamo fino al transatlantico che è il corridoio dei passi perduti, forse insomma non solo i passi vengono perduti lì, viene anche perduta ogni tanto la ragione. Entreremmo in un clima, in un'atmosfera completamente diverso da quella di questa mattina e dagli argomenti che abbiamo sentito questa mattina. Dei flash rapidissimi, Franco era alla Gorà, Franco Corleone era alla Gorà del Partito Democratico nella quale la Presidente Rosi Bindi ha fatto quell'affermazione, io c'è da restare interdetti a leggere quel virgolettato, cioè io non ho capito se la Presidente Rosi Bindi intende che anche la Corte Costituzionale non conosca il fenomeno della mafia. Questa è una prima domanda da porle in maniera molto chiara e molto netta. Avete parlato di una bulimia panpenalistica. Ora, solo in questa legislatura, perché questo va detto per comprendere il clima politico e di cultura politica, grazie al quale poi sono comprensibili alcuni comportamenti parlamentari. Solo in questa legislatura sono state apportate 17 modifiche al codice penale, molte delle quali con leggi di conversione di decreti, quindi con dei decreti, e ovviamente tutte in una direzione panpenalistica, cioè di accrescere i reati o accrescere le pene. Il clima nel Parlamento in questo momento è un clima, semplificando molto per brevità, in base al quale la Corte ha sbagliato. La Corte ha sbagliato, questo si sostiene. E quindi il Parlamento deve quanto meno aggirare o svuotare il senso, mai così chiaro come in quella sentenza, della decisione della Corte. L'esito quale può essere? L'esito può essere quello di un legiferare estremamente ambiguo, ambivalente, che non coglie e non raccoglie il senso dell'indicazione della Corte, e c'è in questo un parallelismo allarmante con quanto sta avvenendo sulla materia del fine vita e del suicidio assistito. Perché in questo momento, nelle commissioni riunite che stanno esaminando quel testo che parte analogamente da indicazioni molto chiare e molto nette della Corte Costituzionale, si sta tentando esattamente di aggirare quelle indicazioni. E poi con un modo di legiferare che diventa oscuro, incomprensibile a chiunque dovesse leggere. Adesso vi potrei fare degli esempi, ma non c'è tempo. Quindi grazie per il fatto di essere stati qui stamattina perché è un supporto importante a coloro, i pochi, che proveremo a fare una battaglia in questo senso, l'ultimissima notazione, ascoltando il Presidente e il Professor Onida, il fatto che si leghi indissolubilmente la possibilità di accedere a quelle misure alla collaborazione può spingere facilmente ovviamente a snaturare il senso stesso della pena e quindi a portarci a dire che in fondo la pena serve a quello se noi ribaltiamo la lettura. E ci stiamo veramente diciamo addentrando su una china pericolosissima. Ultimissima considerazione, ultimissimo flash davvero, recentemente abbiamo sentito spesso parlare nel dibattito di quanto i referendum possano essere pericolosi per la democrazia liberale. Io farei molta attenzione al fatto che molti pericoli per i principi fondamentali della democrazia liberale e quindi anche per i principi che sono da base di un codice penale di una democrazia liberale possano arrivare anche dall'interno del Parlamento per tutta una serie di motivi che hanno a che fare appunto con la cultura politica, con come funzionano i partiti ora, con tante cose. Però la questione è un po' più complessa dell'individuare esclusivamente nello strumento referendario e quindi nella chiamata dei cittadini a decidere su determinate cose il rischio principale. I rischi sono molti e non stanno solo da una parte. Grazie. Grazie Riccardo Maggi e chiudiamo con l'intervento di Stefano Anastasia Grazie, sarò rapidissimo perché il tempo credo a nostra disposizione sia praticamente arrivato alla fine. Allora, molte cose sono state dette. Io vorrei dire, nonostante condivida diciamo tutte le valutazioni pessimistiche sul, anzi diciamo così, negative sul lavoro che fin qui ha fatto la Commissione Giustizia della Camera, io vorrei dire che viceversa dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista di chi, come dire, crede nell'articolo 27 della Costituzione così come attualmente è formulato, non come qualcuno vorrebbe cambiarlo, siamo sereni e tranquilli. Siamo sereni e tranquilli perché la Corte Costituzionale ha già detto quello che doveva dire, perché al contrario di quello che dicono gli allarmisti fuori dal Parlamento e cioè che appunto a maggio potrebbero uscire non si sa quante migliaia di ergastolani diciamo se passasse questa cosa, questo non accadrà comunque anche se diciamo così il Parlamento non dovesse rispondere alla richiesta della Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale dovesse decidere così come ha anticipato con l'ordinanza dello scorso anno. Perché comunque i tempi di riconoscimento della liberazione condizionale sono tempi complessi, da due anni a questa parte, da quando è stata pronunciata la sentenza del 2019 sui permessi premio abbiamo finora avuto credo una decina di casi di ergastolani che sono potuti accedere al permesso premio che è una tappa obbligata per arrivare dopo un congruo periodo di tempo alla liberazione condizionale questo lo spiego a tutti gli autorevoli magistrati che non sanno come funziona l'ordinamento penitenziario questo perché bisogna imparare a conoscere anche le altre parti dell'ordinamento non solo quello che si pratica abitualmente quindi nell'immediato non ci sarà nessuna scarcerazione e quindi questo significa d'altro canto che se il Parlamento disporrà come per esempio in questo testo si indica come dire riproponendo soluzioni che la Corte Costituzionale ha già detto che sono illegittime la Corte Costituzionale avrà tutto il tempo per cassarle e quindi si tornerà nella situazione che è già predefinita e cioè che la preclusione assoluta all'accesso alla liberazione condizionale è incompatibile costituzionalmente e quindi seguendo il percorso che alcuni ergastolani ostiativi già stanno facendo dopo il permesso premio potranno accedere alla liberazione condizionale questo diciamo è il punto per cui io dico diciamo sì che per quanto possa essere sotto pressione da una campagna di stampa comunicativa distorta e infondata il Parlamento farebbe bene a utilizzare saggiamente il proprio tempo evitare una disposizione legislativa che sarà inevitabilmente cassata dalla Corte Costituzionale e operare negli ambiti che sono già predefiniti e che la Corte ha già predefinito stabilendo peraltro anche dei criteri con cui su cui il legislatore il legislatore può muoversi dunque c'è la possibilità per il Parlamento di ottemperare a quella richiesta del della Corte Costituzionale rispettando la le decisioni l'orientamento e la giurisprudenza la Corte Costituzionale altrimenti diciamo sì in questo se volesse procedere come come diceva Franco Corleone a un conflitto istituzionale sarebbe inevitabilmente soccombente il Parlamento sarebbe inevitabilmente soccombente perché sulle leggi decide la Costituzione non decide il Parlamento sulla Costituzionalità delle Leggi quindi diciamo sì il nostro appello al Parlamento in modo particolare alla Commissione Giustizia e alla Camera che entro un tempo breve deve definire gli emendamenti al testo base e di utilizzare saggiamente il proprio tempo evitare un lavoro inutile che inevitabilmente sarà giudicato in Costituzione della Corte e quindi stare nei binari che la Corte ha stabilito grazie grazie Stefano mi pare che abbiamo chiuso in questo modo noi alle diciotto ci vedremo alla libreria Libraccio in via nazionale per presentare il volume con gli interventi di Luigi Ferraioli e Gian Domenico Cagliazza e Silvia Albano dell'esecutivo di magistratura democratica quindi questa giornata si preannuncia di impegno di impegno civile e ringraziamo chi è stato presente ringraziamo la Camera dei Deputati che ci ha dato il quarto d'ora accademico ex post invece che è ex ante grazie e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti